Buonasera, oggi a grande richiesta sono arrivata prima in diretta perché le persone stavano aspettando che entrasse e io stessa ero qui che aspettavo di entrare, quindi sono entrata. Ovviamente aspettiamo dieci minuti buoni che sono quelli per arrivare all'orario per riuscire a parlare delle cose senza escludere nessuno, senza escludere i puntuali. E oggi parliamo della classifica di febbraio. Non ne abbiamo ancora parlato fino adesso, il 18 marzo. Ciao Mauro, primo, bravo, ti sei rifatto dalla volta scorsa. C'è la classifica di febbraio, non abbiamo ancora parlato di niente perché siamo un po' in ritardo, siamo a metà marzo passato ma dobbiamo ancora parlare di febbraio ma ce la possiamo fare. I libri non sono tanti, non dico che li finiremo questa volta perché di solito non ce la facciamo mai, quindi mi sembra improbabile, però in realtà sono tanti, cioè non sono così tanti, quindi è fattibile. Sono dodici in totale ma in realtà ne conto undici, quindi molto poco questa volta. Twitch manda le notifiche a me per dirmi che sono online. Ciao Bea Oggi è entrata proprio in super anticipo così, tanto io ero qui che non facevo niente. Il problema è che quando inizia a parlare poi si sveglia a macchia e dopo vuole le coccole. Hai dormito fino adesso? Veramente qualcosa da fare. Mi stavo annoiando, almeno così chiacchieriamo. Ciao Anna, ciao Barbara. Ciao ciao ciao. Anche a te. Oggi siamo in anticipo, quindi nel frattempo chiacchieriamo di altre cose, aspettiamo ovviamente chi è in orario. Ciao Jessie. Jess, Je. Perché oggi hai detto Je e Jess, non hai detto Jessie. Quindi, quindi devo... Io ho, allora, ho due amiche, Jessica. Una la chiamavo Fra, perché per motivi nostri, e l'altra Jay. Quindi mi va bene tutto. Tutti in attesa del main event, Sam versus Perrin, per Ren. Scorrerà il sangue. No, allora, mi devo trattenere perché non voglio offendere nessuno, quindi sarà difficile. Per me e la Jessica sono tutte Je, ok. Je o Je? No, no, mi va benissimo Jessie, ok. Guarda quanto pubblico alle 17.50 per la perren. Esatto, cioè, c'è attesa. Secondo me vi deluderemo... Allora, spero di deludervi, perché mi sono cercata di concentrare su le cose che voglio dire, cercando di non, insomma, di dirle bene, non troppo con cattiveria, ecco. Anche perché tu mi chiami, sì, esatto, ma non so perché mi viene da chiamarti così, cioè... Sei Jessie per me, però ovviamente se dà fastidio, basta dirlo. Allora, se c'è qualcun altro in ascolto che solitamente non scrive, sappiate che abbiamo molto piacere di sentire anche le vostre opinioni, quindi molto volentieri. Se non tiri almeno una bestemmia ci rimarrò male. Mamma mia! Sì, anche a me qualcuno mi chiama J o Joy addirittura. Ah, sì. Eh, sì, infatti perché Joy in the Deep pensavo che fosse una sorta di... gioco di parole. Io non so perché, ma ero convinta che la diretta dei finiti del mese con la perrenci fosse già stata, ormai ne ho parlato così tanto. In effetti ho già spoilerato comunque la mia opinione più volte, quindi in realtà non c'è molto da sapere. Sia mi ci muovi palesati, il mio cuore ha già sofferto troppo forse. Anna, mi dispiace oggi ti darò il colpo fatale, poi giuro... Cioè, ho promesso a me stessa di non tirarla fuori ogni tre per due, quindi ci provo almeno. Non lo giuro perché mi conosco, ma... Ciao a tutti! Eccomi qua, vi ho fatto una testa quadra su Instagram e lo sono qua anch'io. Ciao Silvia, benvenuta. Allora, intanto subitaneamente soprannome con cui vuoi essere chiamata o ti va bene Silvia, perché so che ci sono persone che il proprio nome per intero non gli piace essere chiamate. Quindi Silvi, Silvi, Silvia, Sil... Sì sì, non lo so come vengono chiamate le Silvia, fammelo sapere e me lo ricorderò. Ne abbiamo parlato talmente tanto a cose in corso, esatto. Abbiamo fatto una testa tanta anch'io. Oggi vado a chiamare i troll di Twitch che intasano la chat. Proprio per boicottare tutto. Sì, Joy in the Deep è proprio un gioco di significati e parole con le miniziali, il mio mood contraddittorio. Sì, beh, il fatto del mondo contraddittorio l'avevo capito anche perché è proprio... Cioè, lei ha scelto proprio un nome perfetto. Però anche per il discorso Joy appunto l'avevo pensato. Silvia va bene, sono una persona sempre. Va bene, ok, Silvia. È anche più facile da ricordare perché altrimenti chiamo tutti quanti un po' come mi pare di soprannome. Quindi, bene così. Allora, oggi sono arrivata presto, quindi adesso sto in realtà perdendo tempo, stiamo chiacchierando così allegramente perché non voglio anticipare l'inizio della diretta per quelli che arrivano le sei, perché non mi sembra giusto, insomma. Quindi è un momento di chiacchiera libera per cinque minuti. Tra l'altro una persona mi ha scritto oggi che arrivava anche un po' tardi, quindi ha maggior ragione iniziare troppo presto, non mi sembra maleducato nei suoi confronti. Cioè, ovviamente poi facciamo quando è l'ora, ma insomma, con calma. Top, perché a noi piace quando si surriscalda la situazione. Allora, io devo essere brava. Non mi montate. Allora, premessa che poi dopo ridirò, però lo dico a Silvia e a chi altri stia ascoltando che magari non è abituato psicologicamente. Sappiate che io ho letto Cambiare l'acqua e i fiori per... Oddio, adesso stavo per dire... Adesso stavo facendo un po' tipo per fare un piacere a... Vabbè. Nel senso, qui nel gruppo Cambiare l'acqua e i fiori era stato letto da tutti quanti, ed era piaciuto da tutti quanti, soltanto una persona, cioè Mauro, che trovi con Leland Gaunt. Non l'aveva letto, l'aveva abbandonato. Quindi lo volevo leggere perché volevo far parte del gruppo. Ciao, Cami. E quindi sappiate che ho letto Cambiare l'acqua e i fiori, mi sono costretta a finirlo, però per me è stata proprio una costrizione, ci ho fatto veramente fatica. E visto che mi capita veramente di rado di andare avanti con un libro che odio così tanto, mi sono incattivita. Quindi questa premessa è per dire che io ci provo a essere polite nel modo di parlare, però se sono un po' incattivita verso il libro, non prendetela come una cosa personale, non penso di avere la verità in tasca, non voglio offendere nessuno, la vostra opinione è assolutamente importante, però io mi rendo conto che questo libro proprio lo detesto, quindi si farà fatica a non farlo capire. Ma come mettere mai avanti? Tanto lo sto facendo. Poi lo ripeterò dopo perché comunque adesso non ci sono tutti, perché non si sa mai. Quindi tutto quello che dirò non me ne prendo responsabilità, cioè fate finta che sia un momentaneo momento di follia che non mi corrisponde. ha da prendere i popcorn. No dai, comunque mi sforzo per dirlo bene le cose. Io sto fissando la mia copia di Cluff sulla libreria. Cos'è Cluff? O sono io che non sto capendo? Sapete che Sam stronca rigorosamente tutte le novità. Tutto quello che è rosa, tutto quello che è miele ed è cattivissimo. No, Barbara, ma non è vero. Allora, non è vero, non è vero, dissento, dissento. Non è vero. A parte che sono buona io, non sono cattiva, sono anche quella che dà i voti più alti qui praticamente. E infatti Cluff cos'è? Non ho capito. Dove essere magari tipo, boh, un acronimo? No, Sam, devi prendertene la responsabilità. Troppo facile così. Vabbè, me ne prendo la responsabilità, però non voglio sottintendere che ho ragione. Va bene così, va meglio. Ah, cambiare l'acqua. Ne abbiamo parlato fino adesso. Ne abbiamo parlato fino adesso e non avevo capito che Cluff era cambiare l'acqua e fiori. Sono già sveglissima, sveglissima. Ok, tu la stai fissando, ma l'hai letta, Cammy? No. Ciao a tutti, ciao Monica. Non ce l'ho arrivata... No, ma neanch'io, ma che scema. Ce l'abbiamo parlato fino adesso. Cambieranno quei fiori che da ora in poi chiamerò Cluff per fegrizia. Giustamente. Ok, anch'io lo chiamerò Cluff, così, in amicizia. Sto scherzando. Brava Barbara che hai ritirato le accuse. Se vuoi le dico io, due cattiveri, anche se a me è piaciuto, ma mi piace fare polenta. Sì, te sei più brava di me, bisogna dire la verità. Te proprio non hai paura di niente. Cluff, ottimo acronimo. Esatto. Confermo, non scende sotto il set al massimo sei e mezzo di sostro. È vero, sono veramente eccessivamente buona. Per questo motivo dovete apprezzare che sarò cattiva per una volta. Sam ha detto cercherò di essere polite e io ho pensato polemica. No, no, no. Cioè, oddio, mi riuscirà semplice essere polemica, quindi cercherò di non farlo. Anche perché a voi è piaciuto tutti quanti, tra l'altro. Quindi non ho neanche un compagno... Cioè, un po' Mauro, come compagno di merende per... Insomma, per far dire che ho ragione, ma visto che è poi l'ha abbandonato, non può aiutarmi più di tanto. Ma ho pensato subito a quella. Ma non perché lo sia Sam, anzi, ma ho pensato subito a quella. Sì, 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 ci sta. Anche perché è polite, insomma, perché ho detto polite invece di dire una parola italiana. Sono arrivata anch'io, ciao. Ecco, Simo, io ho particolarmente paura di offendere te, anche se non sei una persona che si offende. Però visto che te le ho già dette le cose, non voglio pesare ancora di più su cambiare l'acqua e i fiori. Però non sale sopra l'8 e mezzo, quindi nemmeno troppo buona. È vero, è vero, avete ragione. Però ogni tanto di rado il 9 lo do, eh. Radissimo, però ce l'ho, ce l'ho. Sto guardando Claff e gli sto dicendo che lo leggerò solo quando avrò dimenticato il tuo sfogo. Allora, vedi, a maggior ragione devo essere brava che... No, no, vai tranqui. Scusa, Simo, ma ti giuro che provo in tutti i modi, poi non tirarlo fuori più. Vero, è uno di quei libri che stimola come le prugne. Ecco, iniziamo. Stavate impamando Claff? No, ancora non abbiamo iniziato, però avevo fatto una premessa dicendo che io mi sono un po' incattivita perché avendolo ho voluto finire per forza, per averne un'opinione totale e visto che era piaciuta a tutte, eccetera, mi sono incattivita e quindi mi viene da essere più cattiva di come sono di solito. Quindi chiedevo scusa in anticipo e dicevo che rispetto alla vostra opinione che non voglio offendere nessuno per evitare di... Perché poi mi rendo conto che quando comincio a parlare... Beh, 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 comincio... Cioè, peggiora la situazione, insomma, quindi cerco di arginare le problematiche prima. Claff mi fa troppo ridere il rumore di uno schiaffo, è vero. Schiaff? Da voi si dice schiaff? No. Perché da noi uno schiaffo è lo schiaff. Do uno schiaff, si dice, ti do uno schiaffo. Ah, ti si aspettava, Claff mi fa pensare a Ploff e evoca l'idea di essere un libro. Ploff è un mio bimbo, è un mio bimbo, molto buono. Beh, è un peluche. Ancora non abbiamo iniziato morto. Sì, Claff è particolarmente bello. Ho nomato Peico e ha zeccato per Sam la sua relazione nella lettura di Claff. In effetti ha quel range da 6 a 9 che è un programma. Poi cerchi tutti i modi di fiorire, rimango in tema di Claff. Sì, 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 è vero. La maggioranza del mio range, cioè il mio range è quello. Schiaff si dice e si capisce. Ah, vedi. No, no, fai pure. Credo comunque che sia un'esperienza di lettura che vada fatta perché... Perché? Che alla media dei lettori possa piacere. Quindi diciamo che mi dispiacerebbe se qualcuno evitasse la lettura perché a te non ho convinto affatto. No, sì, quello dispiacerebbe anche a me, anche perché, insomma, visto che a tanta gente è piaciuto tanto, non vorrei mai che qualcuno non provasse a leggerlo perché non è piaciuto a me, ecco. Sì, io dico Schiaff, ma anche Claff. Richiama comunque quello nomatopea, ok. Schiaffon? Schiaffon? Non lo dirò mai bene, ma... Giotte 2, vai, uccidi, vai. Allora, premessina. Febbraio. Ho letto 12 libri, però ne conto 11 perché uno è uno di quelli che non conto come libro unico, perché è Proust, dopo ne parliamo, però non l'ho messo in classifica, insomma. Bea, non sto più... Sì, spero che rimarrà delusa. E quindi la media è stata fatta su 11 libri, quindi su quello di Proust, e la media su 11 libri è 7,5, che è molto bassa, però considerando il voto che do appunto a cambiare l'acqua e i fiori, non è così bassa. E comunque ci sono diverse persone anche su Instagram a cui non è piaciuto Claff, quindi alla fine non è anomalia, c'è chi l'ha amato e chi non l'ha tollerato, quanto pare. Ah, mi pensa. Io inizio a tossire, scusate. Allora, non me l'aspettavo, cioè più che altro io ho saputo soltanto le vostre opinioni, quindi mi ero ormai convinta che fosse soltanto a me che non era piaciuto questo libro, anche se in realtà no, adesso mi sta venendo in mente che in realtà in direct me l'hanno scritto in tanti, che non era piaciuto neanche a loro quando ho detto che non mi piaceva. Te non l'hai mai visto su Instagram? Io sì. Ah, perché a fondo classifica, dai? No, non vorrei spolerare, però c'è la possibilità che sia in fondo. Io l'ho trovata emotivamente coinvolgente. Allora, se con emotivamente coinvolgente vogliamo intendere che ho provato delle emozioni leggendolo, sono d'accordo, però le emozioni che ho provato io sono fastidio, rabbia, anche cose peggio, che non dico perché avevo detto che devo essere brava. Ciao Sara. Sera. Ciao Sara. Sam Claffin. Si sentirà preso particolarmente Claffin nella perrenna. Si sentirà particolarmente preso... Eh, è. Preso particolarmente in mezzo. Ciao a tutti. Ciao Caterina. Otton Claffin. Non mi ricordo come lo hanno battezzato di noi. Ma chi? Non ho capito. Santi vogliamo crudo e spietata, no? Devo essere brava. Oggi mi sono impegnata per motivarmi psicologicamente per essere brava. Fastidio, rabbia, vomito, allucinazioni, attacchi di pane. Allora, di questi alcuni vomito esagerato. Ciao a Sara Sera, a Caterina e Silvia. Allora, anche i nuovi arrivati. Devo parlare di un libro che ho odiato. Sto cercando di farlo il meglio possibile, senza maleducazione, ma se a voi è piaciuto, non sentitevi offesi, vi prego. A me stimolava come le prugne. Ecco, vedi, ognuno ha la sua... Io ho impetazzato con la protagonista provando a immedesimarmi. La Fenn è un attore, o con la Filbo, figo. Ah, ok, non lo conosco. Secondo me oggi parliamo solo di questo. C'è la possibilità. Allora, cambiare l'acqua e fiori. Io ci ho pensato oggi, che cosa dire. È difficile, cioè, è stato difficile per me riuscire a comprendere che cosa dire senza essere offensiva. E lo sarò lo stesso, sicuramente. Però io proprio, quello che devo dire è che, cioè, proprio in sintesi, prima di entrare proprio un po' più nell'analisi, senza spoiler, ovviamente, comunque a te è piaciuto, no? Mauro l'ha proprio mollato, quindi io sono stata comunque più buona e più brava, perché almeno l'ho finito. Dicevo, secondo me una sintesi proprio di perché non mi è piaciuto cambiare l'acqua e fiori è, cioè, proprio facile, semplicemente dicendovi prendete il libro apritelo in un capitolo inizio capitolo a caso guardate il titolo di un capitolo e ecco perché non mi è piaciuto perché vi giuro che a me non era mai capitato e non credo di esagerare dicendo mai capitato perché non mi ricordo nessun altro esempio di questo tipo di avere proprio un fastidio e c'è proprio una sensazione negativa di, oh mio Dio soltanto a leggere il titolo del capitolo cioè già i titoli dei capitoli per me sono talmente troppo che, cioè è proprio basta cioè mi bastava già cioè se io avessi letto i capitoli a caso avrei già capito che non mi sarebbe piaciuto quel libro perché veramente sono è purtroppo esempio di un titolo io non ho il cartaceo l'ho scontato in audiolibro ed è passato un'eternità quindi non lo so però cioè i titoli dei capitoli sono sdolcinelli eh sì adesso se qualcuno di voi mi vuole coadiuvare guardando un titolo di capitolo io purtroppo non mi ricordo però tipo la brezza della sera avvolge la notte la cavolata però nel senso cioè per me già un libro che ha questi capitoli qui cioè mi dà la sensazione proprio di di poca qualità non dico che sia vero che è poca qualità però a me dà questa sensazione qui quindi faccio fatica poi eppure questo di questo libro ricordo anche la trama io che non ricordo mai nulla e beh a voi vi è piaciuto molto quella non l'ho trovata una cosa fastidiosa non so se parlavi già dei capitoli è un esempio di titolo purtroppo non lo so vediamo se qualcuno l'ha scritto no a me sono piaciuti tantissimo i titoli più tuffi no cioè io veramente cioè avevo ero disgustata dico la verità la parola giusta è disgustata scusatemi però è quella agevola qualche titolo dai bea scatenati prendi cluff l'essenziale invisibile agli occhi ecco già quello io sono fan dei titoli tipo uno esatto anch'io alcuni di quei titoli a me sono piaciuti ce n'era uno su una frase che diceva la nonna nel senso di detto popolare sì adesso non sto parlando ovviamente di tutti i titoli però la maggioranza cioè passiamo parlando tanti titoli sono veramente una roba che già da sola era abbastanza per valutare il libro in maniera pregiudizievole ora vado a prendere lo sfoglio 49 qualche fiore ricordo del tempo andato 77 è meglio piangerti che non averti conosciuto sì questo qui proprio terribile fino alla fine così degli altri libri non mi importa va bene allegri eh beh sì è meglio piangerti che non averti conosciuto tu sei Murakami fa molto Murakami 1 no lui David mi sa che non ci sta non è nessun gruppo 31 eravamo in due ad amarci rimango solo a piangerti sola a piangerti cioè fa proprio capire il mood del libro che a me non è piaciuto quindi cioè sono proprio cioè già evidenti ma sono in tema cimitero dai se non sbaglio la maggior parte sono tipo epitaffi sì ma sono terribili meglio vivere e soffrire gli effetti collaterali che non vivere niente per paura oddio mio per Ren era fan di Tumblr eh esatto esatto già mi sto incazzando i semi titoli scusa Anna 60 60 un ricordo non muore mai si addormenta dai è che spesso gli trovo dei semi spoiler ma guarda Dave cioè onestamente no cioè non ti preoccupare non ti preoccupare a me alcuni piacciono altri un po' too much ma capisco l'orticare che ha fatto veramente tantissima 70 un giorno verremo a sederci a te nella casa di dio boh io leggendole riportate da Bea non le trovo poi così sdolcinate ma io non ho detto allora sdolcinate le ha detto Bea io ho detto che mi hanno disgustata se posso scusatemi però cioè io proprio le ho trovate fastidiose cioè proprio della serie cioè un autore che scrive cose di questo tipo scrive cose di serie B secondo me opinione mia non sto dicendo che è vero però io proprio associo questi modi di dire qui a libro scartabile insomma i cambi di intonazione di San quando leggi i titoli di capitoli crepo poi magari io leggo e piango come un vitello ma ora mi viene da ridere sì beh nel momento magari piangerai il 60 è malissimo dai perché non ti sei calata nel contesto eh ho capito ma come si faceva cioè è ridicolo cioè a me faceva ridere non è proprio vero perché non ero più arrabbiata che che felice però nel senso cioè mi sembra proprio come quando vai tipo a vedere un film dell'orrore di serie B ed esce tipo il pupazzo a molla che dovrebbe essere il mostro cioè fa ridere non fa paura eh 75 sono uno che ama passeggiare soffro della sindrome dell'altra riva che cazzo vuol dire è piaciuto a voi dovreste spiegarlo voi ecco questo potrebbe farmi desistere avevo la mente idea di metterle un wish list ma visto quello che dici non mi viene proprio voglia di leggerlo però specifico che è piaciuto tantissimo a tante persone quindi sta roba cioè di disgusto l'ho provata soltanto io quindi a voi può piacere tantissimo e poi comunque leggere un libro ascoltare un audiolibro sono cose diverse su questo sono d'accordo però posso dire che se fosse stato in cartaccio non l'avrei mai ma poi mai finito proprio cento per cento perché una cioè è stata una fatica colossale ascoltare un audiolibro dove non mi dovevo obbligare a perdere del tempo in cui non facevo altro per fare solo quello quindi non ce l'avrei mai fatta bea non passare dalla parte del nemico è perché bea vuole incitarmi a essere cattiva sì sì in generale non piacciono nemmeno mai i titoli perché spesso spoilerano i capitoli delle storie sì però c'è tipo nei classici ci stanno secondo me 74 vedrai la mia penna impiumata di sole nevicare sulla carta l'arcangelo del risveglio questo non l'ho neanche capita Caterina biblioteca lo poi lo legge poi ci dici dai sì dai magari ti piacerà sì infatti ma poi durante la lettura entrando nel mood non stonano più non è vero non è vero stonano non stonano mi permetto di dire che tutte le volte che c'era il titolo di un capitolo pensavo mamma mia io sono sempre dalla parte del nemico come scelta politica in effetti i scelti da bea fanno almeno ridere leggerei solo quelli la storia è bella però non è come i titoli ma ti è piaciuto quindi eh ma ti è piaciuto quindi non dovresti far arrabbiare Anna bea tu non visualizzi le immagini che evoca eh dai così potrei farlo per piacere sì Caterina ti farei una tua idea ma non privarti dell'esperienza di sperazione sì non ascoltate mai perché io l'ho proprio detestato cioè non sono assolutamente oggettiva vabbè scusate ma sulle tombe voi che frasi leggete di solito io sulle tombe leggo data di nascita e data di morte però onestamente cioè sono cringe queste dai cioè boh io non leggo queste robe qui a parte nei telefilm a sto punto diventa un compito per casa ok ho trovato il peggiore associato anche a un numero divertente 69 niente può avvizzirlo niente può far appassire quest'incantevole fiore che si chiama ricordo o mamma e con questo vado a fumare ottimo siamo brutte persone sano e vabbè sì però dai Mauro su cioè questo qui è proprio istigare comunque questo libro era proprio per istigarmi ve lo dico cioè era veramente impossibile che mi piacesse di peggio sicuramente ma poi secondo me alcune erano citazioni proprio sbaglio non avendo cartasso sì qualcosa sì anche detti Sam la vedrebbe come un compito di punizione sì esatto essere cattivo è più divertente non devi capirle Sam di visualizzare le immagini vedere la polvere della luce esterna che tocca la piuma bianca col pennino intinto nell'inchiostro che scrive anzi che nevica eh purtroppo non ce la faccio non sono per questo tipo di linguaggio io ma no Sam perché quell'audiolibro ti stonava ma se sei presa dalla storia figurati se rilegge i titoli dei capitoli io penso che sia molto peggio certe robe scritte in Enrique Ber mi dispiace non me lo toglie nessuno dalla testa io penso che Enrique Ber sia molto peggio in certe cose ma molto meglio in altre io abbatto i film d'amore patetici io suona mia spero ci siano Beatrice Beatrice Stucchi il 1.195 2.000 e tanti spero fumava tanto e diceva parolacce ce ne sono tanti ma le frasi che mi evocano immagini mi piacciono io dopo averlo letto sono andata a farmi un giro al cimitero per vedere gli epitaffi molto macabro ok da accetto il compito per casa ma infatti io non mi sono filati tantissimo i titoli quindi non mi hanno disturbato molto beh sicuramente si leggendoli ovviamente non li ho potuti evitare ecco cioè ascoltandoli intendevo ma non ho capito se l'hai finito o poi l'hai molla l'ho finito Monica l'ho finito ho fatto una fatica indecente ma l'ho finito è per questo che oggi mi devo vendicare perché non ce la faccio più perché macabro Barbara istigava Sam sulla mia zoguardi brutto carattere tipo vuoi una foto a me in tutto ciò era pure piaciuto perché era entrata tanto nella storia l'avevo letta senza intervallarlo ad altro esatto penso che sia così alla fine perché si vuole andare avanti e scoprire 1995 e 2022 ha detto ha detto a Sam che De Lillo scrive di merda esatto a me piacciono i cimiteri quelli monumentali in particolare ci sono delle opere di scultura che sono spettacolari è vero sono d'accordo muoio per rimanere in tema fantastica questa e in teoria la gente sta composta a non rompere palle nei cimiteri beh sì teoricamente allora dai sulla mia lapide spero ci sarà scritto sempre in ritardo spero anche per la mia fine a questo punto dai facciamo un gdl su tre che ce l'ho qui da legge se volete ve lo preparo anche ma io col cavolo proprio poi parliamo sempre del libro visto che non ho detto niente vabbè ma faccio un'ulteriore analisi sono curiosa esatto lo stavo già facendo vedi Bea siamo siamo sincronizzate sì certo sia vivi sia morti mi sono sentita un po' una guardona ma quelli datati sono molto interessanti allora dicevo ulteriore analisi so che Simo non è d'accordo perché era già stato toccata questa tematica però veramente a me i personaggi sono sembrati la stessa identica persona che però parlava in maniera via via più volgare cioè aveva la stessa identica stesso identico modo di pensare ma semplicemente in cioè si aggiungeva cazzo e poi in quello dopo ancora più volgare eccetera fino ad arrivare al punto di vista maschile che non dico chi è ovviamente così non faccio spoiler nessun tipo soltanto che il punto di vista maschile che è la cosa più ridicola che abbia mai letto cioè che credibilità zero meno cento confermo sono in disaccordo con te sì perché me l'avevi già detto Simo che non eri d'accordo cioè io non ho mai trovato l'approfondimento psicologico fatto così male in un testo perché i testi che non lo fanno alla fine è meglio perché comunque cioè non sbagliano niente invece qui perché proprio il libro si basa sul fatto su farti entrare in empatia con i personaggi che per me sono stati proprio completamente delle comparse e del non delle comparse proprio dei cartonati cioè proprio una una cosa incredibile cioè poco credibile cioè non credibile incredibile in questo senso oddio sono d'accordo su questa cosa dei personaggi non ben distinguibili non ci avevo pensato no sono proprio terribili però per me cioè non poco tantissimo non è ridicolo è funzionale un personaggio disturbato eh ma non lo rende per niente bene quello è il discorso Sam ti è andata bene che avendolo letto un anno fa non ricordo bene i dettagli di trama quindi non posso controbattere ma non è per la trama è proprio per come si pongono i personaggi cioè sono la stessa sono lo stampino della stessa donna lamentosa fatta in un certo modo e poi però in alcune donne dicono cazzo l'altra donna è ancora più porca allora dice più parolacce però cioè sembra la stessa donna stampino con un'aggiunta linguistica per far capire oh la sto facendo diversa eh molto diverso questo personaggio dal precedente non è uguale uguale e quindi cioè fatto malissimo la cosa c'è resa peggio mai letta questa cosa qui io me li ricordo ma non spoiler sì perché poi c'è chi non l'ha letto quindi ovviamente anche io sto cercando di tenermi sul vago a me stai cominciando nonostante il mio otto pieno ho dato un anno fa no io non voglio cominciare nessuno voglio soltanto sfogarmi c'è solo una cosa che mi dà noia una relazione non dico altro l'altra donna ancora più porca sì perché alla fine queste donne sono tutte quante uguali come lamentosità come fastidio però poi sono a una c'è una scala di porcaggine non dico saliente perché dipende in realtà però praticamente si distinguono dai pensieri sconci che fanno e da quante parolacce inseriscono nel loro lessico che bello quando riesce ad essere cattiva nelle recensioni sì ma in questo caso qui sto facendo tanta fatica a non esserlo perché veramente l'ho odiato questo libro quindi mi sto sforzando al contrario non è non sto facendo fatica a essere cattiva no a me non è sembrata proprio questa cosa anche perché i personaggi principali non sono tanti è vero sono d'accordo che i personaggi principali non sono tanti è una cosa oggettiva però anche Jesse ha la testimonianza del fatto che cioè nell'audolibro avevo ascoltato il secondo prima chi era la protagonista del capitolo che stavo leggendo il secondo dopo mi ero già dimenticata perché mi sembrava l'altra perché è troppo simile quindi io non non distinguevo le donne e poi dicevo ah scena porno giusto è l'altra cioè è soltanto così che riuscivo a capire ovviamente dalla loro storia perché hanno storie diverse non sto dicendo che abbiano storie uguali il problema è che le donne sono la stessa si capisce che è una donna che ha scritto cose da donne ma io non sono uguale a tutte le altre donne già mi stava sul ca la prima se poi tutte le altre sono uguali ma mazzi sono d'accordo che l'introduzione dal punto di vista maschile è fatta veramente male lo dico da persona a cui il libro è piaciuto in generale sì ma secondo me proprio anche come la resa cioè già non riusciva a convincermi con le donne non perché non esistano donne così ma semplicemente perché non è che è possibile che tutte le donne che sono coinvolte in sto cavolo di libro siano simili a parte la porcaggine cioè non era credibile però poi fai l'uomo cioè dal punto di vista maschile si dice sempre lo dicono sempre io non sono d'accordo la maggioranza delle volte che i maschi non possono scrivere di personaggi femminili perché non sanno fare qui la perrena ha dimostrato che una donna come lei perché non è vero al contrario se scrive un personaggio maschile lo rende cioè completamente non fatto bene poi come diceva Simo questo personaggio maschile senza entrare nel merito è un personaggio maschile fatto in un certo modo quindi era facile da fare perché non dovevi seguire cioè era facile che non fosse uno stereotipo e invece è fatto veramente male ma male 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 proprio cioè proprio male è anche più divertente e gli uomini perché assurdi non ho non ho capito aspetta forse sono rimasta indietro di qualcosa esatto e non essendo tanti li ricordi madri mariti amanti episodi drammatici sì sì ma infatti io non ho detto che non li ricordo ho detto che per me sono fatti male perché si assomigliano veramente troppo come togliere la dolcezza a un libro per chi non ha letto non è un porno beh beh aggiungo aggiungo che ci sono delle scene che sono veramente orrende a livello di porno e che quindi io rimangio tutte le volte che ho detto tipo di Wellbeck di Roth che sono un po' troppo porno perché cioè almeno non c'è lo schifo che c'è in questo libro perché non per quello che viene raccontato ma per come viene raccontato cioè proprio bassissimo livello ma proprio basso ricordiamo sempre che Twitch mi ha bloccato altri nomi tipo un verbo invece porno me lo fa dire ovvio per chi non l'ha letto Sam lo dipinge come un brutto libro volgare con del porno beh c'è c'è sì ma non dire che non c'è il porno perché c'è non è c'è su non so quante pagine ci sarà una pagina di porno però fa schifo proprio sai cosa su di me ha valso molto so che io sono caduta nel trenello e non avevo affittato il plot twist se becchi quello in anticipo parti male ma quello non è un plot twist cioè era troppo evidente io non allora io non so come sia possibile leggere quel libro e non immaginarsi non dico proprio esattamente quella cosa ma una cosa comunque similare perché semplicemente c'è qualcosa che non viene detto e tu devi cioè tu completi da solo sto cercando in tutti i modi di non fare nessun tipo di spoiler però dico quella cosa lì anche se non capisci il plot twist comunque manca qualcosa quindi la tua mente in qualche modo deve completarla la mancanza quindi anche se non lo completi esattamente nel modo del plot twist comunque ti aspetti una cosa similare per me questa cosa dei personaggi non l'ho sentita non ho avvertito questa cosa delle donne con lo stampino mi ha infatti anche Simo però io proprio cioè io l'ho trovata proprio fatta malissimo e non lo direi mai vi giuro esagerando cioè proprio l'ho trovata cioè in un libro in cui è così importante non l'ho mai trovata fatta così male e purtroppo su questo non ricordo quindi non saprei ma io in realtà prima che ne parlassi tu non ricordavo nemmeno che ci fossero scene nel senso esplicito ci sono giuro però poche poca roba soltanto che è proprio una qualità bassa quindi direi che durante la lettura non gli ho dato grande importanza ti giuro che ho il dubbio che non stiamo parlando lo stesso libro no vabbè la scena tipo Jesse se la ricordava perché glielo ho raccontata comunque ci sono anche aspettate c'è una frase che avevo mandato a Bea però Bea scriviamo troppo comunque ho mandato una frase anche a Jesse che non era neanche in una parte porno una roba bassissima proprio se loro ce la ricordano non mi ricordo purtroppo la frase che scrivo con tutte e due troppo quindi ho trovarla buonanotte la porcagine funzionale ripeto non è porcagine buttata lì a caso e io ripeto hai ragione però è fatta male nel senso non mi dà fastidio che ci sia ma l'hai scritta male cioè quello è il discorso che poi sono tre scene di sesso in tutto il libro credo no vabbè non so quante sono ma poche sì sì sono poche confermo questo è proprio un libro da donna quando si dice così nell'accezione negativa su questo sono d'accordo ma ce l'ho passata sopra perché appunto ero convolta nella trama allora c'è questo qui un libro da donna nell'accezione del se ci sono libri da donna e da uomini visto che sapete che per me i libri se un libro è da donna è un libro da uomo è perché sono fatti male allora sì è un libro da donna in quel senso però c'è è pieno di libri che da altri vengono definiti da donna ma sono belli cioè non c'è bisogno boh non lo so io l'ho trovato proprio brutto ah volevo chiedere ma chi c'è qualcuno di voi che ha letto cambiare l'acqua e i fiori e ha letto anche la ragazza del treno e se sì quale vi è piaciuto di più che cosa ne pensate di due fate un paragone per favore intanto continuo a leggere i commenti anche per me è uguale all'inizio mi sembrava troppo lineare sia la scrittura che la trama poi la storia si sviluppa mi ha sorpreso ti prego allora non leggere l'acqua del lago non è mai dolce sembrava bellezza secondo me cadono in questa trappola della caratterizzazione in effetti non mi ispirano quindi può darsi che non li leggerò mai anche se ero curiosa acqua del lago concordo non leggere Sam va bene no tu sei incazzata per il modo in cui quella scena dipinge il ruolo femminile no 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 assolutamente anche perché le donne qui in realtà vengono fatte vedere come se fossero cioè abbastanza procacciatrici di sesso quindi cioè nel senso sono cioè non sono strumentalizzate a livello sessuale quindi cioè a me andrebbe fastidio il contrario al massimo ma mi fa proprio è fatto proprio male non lo so cioè la qualità per me è bassa cioè non se l'avesse scritto un maschio non ci credo che le lettrici non sarebbero state disgustate mentre avendolo scritto una femmina cioè non capisco cioè è comunque squallido cioè è proprio fatto male non ci riesco ma non quello che viene raccontato ribadisco il modo in cui viene raccontato cioè proprio male non so dirlo esatto idem però Sam magari dà importanza più ad altro e quindi in realtà capisco molto anche la sua campana allora diciamo che la trama per me alla fine ha un suo senso cioè quindi è piacevole apprezzabile ma non mi ha fatto impazzire cioè non è che mio dio penso che sia fenomenale mai vista mai letta però secondo me cioè ci sta bene alla fine però cioè il supplizio che ho provato per leggerlo per questa trama qui non lo meritava per me cioè la trama va bene è piacevole alla fine perché per me non è stata piacevole per tutto il tempo però alla fine comunque si chiude bene quindi è apprezzabile ma chi se ne frega nel senso cioè io non mi leggo un libro soltanto perché alla fine ce la fa a chiudere una storia cioè ripeto secondo me perché a te non piacciono credimi sulle scene porno ho letto davvero di peggio ce ne sono poche dai sono d'accordo sul poche ma la qualità per me è stata terribile ma è funzionale al dolore del personaggio maschile adesso non so più di cosa parlavamo e ora sono curiosa rispetto a Bukowski come linguaggio spinto per chi lo conosce e purtroppo non l'ho letto Bukowski ma cioè non so probabilmente mi sono spiegata male non è che il libro sia porno o che dice troppe cose porno il problema è come le dice cioè che le dice proprio della serie adesso qui ci devo inserire la roba porno la mette ma non sa fare non so cosa dire cioè sembra proprio anche i personaggi è per dire cioè il problema non è che una donna dica cazzo perché cioè va benissimo ma se una donna pensa identico all'altra donna ma l'unica differenza è che inserisce cazzo nella parola è ovvio che lo stai facendo male cioè non è una donna che parla dicendo cazzo stai mettendo la donna di prima e aggiungi cazzo per fare bene la cosa che secondo te dovresti fare cioè cambiare la psicologia del personaggio ma non lo stai facendo per niente bene quindi anche le parti porno erano uguali adesso questa donna qui comunque è una più porca quindi scena porno va bene bla 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 cioè non è fatta bene per niente non dirmi che era troppo evidente io sono tarda ti ricordi cosa non avevo colto Nicaramazov ecco sono tarda non avevo colto manco Eleanor Oliphant vabbè però capisco che magari se uno non se l'aspetta può divertire di più anche se ripeto a me non me ne frega molto delle trame quindi cioè non mi cambia così tanto ora sono curiosa basta solo che non sia necrofilia no 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 eh ma io sono tonta e non avevo capito cosa mancasse io giuro che non mi sento neanche brava per aver indovinato perché in realtà lo davo per scontato cioè io la cosa che era scusate plot twist il primo l'avevo dato per scontato cioè pensavo che ne parlasse dopo però non credevo che fosse un segreto di stato cioè l'avevo capito ma non pensavo neanche che fosse da indovinare insomma beh percepisci che manca qualcosa ma non sai cosa non era scontato secondo me non ho capito scusami ah sempre questo discorso qui eh io capivo che cioè qualcosa doveva essere successo e quindi chissà che cosa cioè indoviniamo vedo che siamo sulla stessa linea in realtà io avevo immaginato i plot twist ma comunque l'ho apprezzato lo stesso io non è che non l'ho apprezzato soltanto che mi aveva detto Bea ma anche altri di voi comunque arriva fino a lì che dopo ti piacerà di più allora mi aspettavo che mi piacesse di più mentre a livello di trama a me non me ne fregava niente prima non me ne fregava niente neanche dopo sarebbe stata una svolta top sì Dave può essere ma in quella scena specifica in quell'atto sex è trattato esattamente come doveva essere trattato secondo la psicologia del tipo di personaggio maschile Sam io sono a metà di Oliphant ti dicevo oggi a Bea che non ho capito niente in che senso non hai capito niente cioè non sai dove va a parare io l'ho capito tipo dalle prime righe Dave fai prima bibliotecarlo anche tu e poi deliberare il tuo parere Dave io non ti farei mai una roba del genere non credo che possa piacerti questo libro cioè alle donne ci posso anche credere ma i maschi no onestamente perché questo qui è proprio un libro da donne veramente e lo sto offendendo perché io non penso che ci siano libri da donne e da uomini però in questo caso può piacere soltanto perché ci entra minimamente cioè nel personaggio perché altrimenti non capisco come possa piacere non è fatta male per me è volutamente fatta per dare fastidio e ha raggiunto evidentemente quanto ha il suo scopo a me ha fatto schifo non fastidio fastidio ce l'avevo a perdere tempo a ascoltare il libro ma basso non significa per forza che stoni che sia un libro scadente per me quindi non mi ha disturbato ho letto libri molto più squali di volgari anch'io ho letto libri squali di volgari però erano divertenti cioè non e poi erano coerenti soprattutto se come la ragazza del treno piangono dei libri peggiori del mondo sono d'accordo Camilla infatti io penso che questi due libri possano piacere soltanto alle stesse persone perché la ragazza del treno ha gli stessi identici difetti però la trama thriller è molto più bella rispetto a questa lì che sì che dici cavolo almeno la storia mi ha interessato sapere io quello lì l'ho finito perché mi interessava sapere come finiva ma fa schifo quel libro però è meglio di questo quindi cioè alla fine hanno gli stessi difetti le stesse cose allora leggete quello infatti è per quello che volevo sapere le comparazioni perché effettivamente se questo libro qui vi è piaciuto tanto se leggete l'altro per me è un capolavoro no io non l'ho letto la ragazza del treno ma se c'è grati su audible chi non ha limitato io l'ho ascoltato su audible la bea posso offrirmi come cavia club più bello della ragazza del treno per me che non mi era dispiaciuto non capisco com'è possibile che possa piacere uno di due cioè perché è fatto cioè la ragazza del treno ha gli stessi identici difetti due libri totalmente diversi per me per me sono sono totalmente diversi di trama ma di qualità uguale dai mollo it vado a leggermi questo oh mio dio la ragazza del treno un thriller decente si è preso come tale ma lasciava niente intratteneva come thriller è fatto bene come libro no a me era piaciuto e ne sento sempre parlare male boh ma per me è soggettivamente più bello più intenso clap non capisco perché si è esatto nulla di fantasmagorico però è stato piacevole leggerlo ci sono diversi stereotipi di donne ma quella maniaca del controllo sugli altri quella fiduciosa per te nei confronti del mondo degli strani c'è la donna che ama la donna amante la donna desiderata meglio che mi freni se non inizio a spoilerare troppo si però sono sempre la stessa donna che dice una parola diversa Sam lo sai vero che non c'è ancora detto il voto ah il voto vabbè adesso ve lo dico finisco un attimo i commenti poi ve lo dico cambiare l'acqua cambiare la psicologia dei personaggi no cambiare l'acqua e i fiori oddio ho sbagliato a leggere il contatore della parola porno segna 157 io dico c a z due ogni due per tre come intercalare come milanesi usano il suo contrario femminile infatti non c'è niente di strano però lei lo usa come se fosse oppure cacca macchia ciao come stai adesso nel frattempo è andata via arianna conosce un ragazzo che lo ha letto e apprezzato claf beh per lui non so come abbia potuto però si così mi ricordo di prendere un'ibrioteca mi piace come non mi piace che Sam sta in massacrando mi piace come non mi piace che Sam sta in massacrando questo libro significa proprio che mi è piaciuto tanto beh dai a me dispiace che ovviamente darvi fastidio però per dire la verità cioè a me è fatto proprio schifo cioè faccio fatica a dirlo bene che poi su Goodreads voi tutti i 5 stelle Sam 2 eh io lo dico col voto sono stata buona per voi apposta perché gli avrei dato meno sì sono una stalker sono entrata su Goodreads ed era lì in alto la notifica e sono morta da ridere contemporaneamente sa anche parla in sottofondo claf non è un libro squali da volgare lo sarà per te Sam no no allora squali da volgare e le scene eh non tutto il libro non mi permetterai mai di dire così usare la parola schifo mi dà proprio fastidio mi sa che mi sto incazzando scusa Simo non volevo farti incazzare e scusate scusate se ho usato una parola che vi ha dato fastidio io la ragazza del treno non l'ho letto però ne sento parlare praticamente solo male invece di claf no quindi non credo in questo paragone a me io a me l'ho ricordato tantissimo però la ragazza del treno non mi ispira non credo lo leggerò mai va bene no dai Simo non prende la sua personale lo sai che si scherza sì infatti Bea mi ha detto stai tranquilla che Simo non si arrabbierà invece sì sì lo so mi passa ma non è un libro da massacrare così ho interrotto dei libri che facevano davvero schifo non questo e io Simo è quello il punto lo dovevo interrompere perché a me proprio non è piaciuto a livelli gravi ma va è pur sempre un'opera d'arte chi se ne frega ma è sempre tutto un parere soggettivo e poi comunque davvero mi piace che mi sto scaldando quando dico che i libri sono amici esatto beh sì è una cosa bella che ti piace vorrei averlo scritto io un libro così che a te fa schifo no Simo te scriveresti sicuramente meglio per le cose che vedo che scrivi farete pace leggendo un David Foster Wallace insieme va bene Sam stai tranquilla poi mi passa va bene Simo però ti chiedo scusa ovviamente per qualunque cosa esagerata che ho detto sì ma infatti secondo me la percezione personale per me non è oggettivamente volgare così come non è oggettivamente un capolavoro ma io l'ho vissuto totalmente diverso quindi capisco perché Sam lo definisce così sicuramente se lo stile mi fosse piaciuto non mi avrebbe dato un effetto strano la parte porno è semplicemente che non mi piaceva già prima e quindi quando sei stata quella parte ho riso cioè è tutto lì sì cioè il vero problema di questo libro in realtà siamo state noi che abbiamo insistito sì allora la vera problematica è che questo libro qui magari l'avrei ascoltato e poi l'avrei mollato mentre l'ho voluto finire perché speravo che mi piacesse di più che poi alla fine il finalissimo un po' ha fatto aumentare il voto però il libro in sé cioè a me se non piace come scrive una persona posso leggere 100 pagine 200 500 10 milioni ma mi farà schifo lo stesso scusate non è schifo però il discorso è che io vado lo stile lo stile non mi piaceva quindi non c'era nessuna speranza che mi piacesse si vedeva si vedeva non riesco a essere buona perché è proprio è stato brutto per me come esperienza ragazzi qua Bea ha dato 5 a 94 e nessuna ha fatto risa infatti in effetti una violenza psicologica no io no no io riesco a scrivere poesia bozzi di racconti forse un romanzo sotto forma di diario ma in Bastina è una storia credibile no almeno non ancora beh questo lo capisco il discorso però a livello stilistico sei già più brava secondo me e le ho letteralmente detto che faceva cagare testuali però esatto sì in effetti non c'è perché offendere me anche Bea ha detto le cose brutte sui libri ha detto su 90.24 che è oggettivamente sacro io 90.24 non ho ancora letto ma ce l'ho sì io ti capisco come io che mi ero impuntata a finire Circe ed è stata un'esperienza orribile esatto però io non lo farei cioè io non mi io non finisco mai i libri se mi fanno così tanto dispiacere durante la lettura questa volta cioè infatti sapete che io detesto Eric e Bear ma perché odio Eric e Bear perché l'ho letto in un mio gruppo di letture sono stata costretta a finirlo quindi è per quello che lo odio così tanto perché un sacco di altri libri non li ho mai finiti e quindi non li odio così questo qui è stato lo stesso discorso cioè sono stata tra virgolette costretta a finirlo perché non ero veramente costretta e adesso adesso è entrato nella mia flop di tutta la vita perché semplicemente io non mi obbligo mai a finire libri che non mi piace come sono scritti dipende da noi dal momento da quello che abbiamo vissuto io avevo i nonni in Francia mi sembrava il cimitero del loro paesino boh non so ho avvertito tante cose della mia infanzia quindi è proprio una roba mia personale che me l'ha fatta amare tanto penso ci sta ci sta sì sì lo so questione di stile esatto Jessica anche io ho empatizzato personalizzato situazioni allora Bea parlaci di 50 sfumature almeno avremmo potuto continuare a dire ma non ti è piaciuto perché non sei andata avanti fino al punto più bello esatto invece così almeno speravo io ve lo giuro fino al plot twist lo speravo poi quando ho letto qual era il plot twist e poi sono andata un po' avanti ho visto che il libro non è che cambiasse poi più di tanto a livello stilistico cioè non cambia per niente cambia tanto un po' la trama che diventa un po' thriller ma non mi poteva fare nessuna differenza non l'ho letto o non posso se volete lunedì di fuoco regalatemi non ti preoccupare Sam deve essere sincera e dato che tutti volevamo che lo leggessi penso che ora dobbiamo sopportare tutto il tuo sfogo socia complimentone Sam grazie vabbè io lo penso lo diciamo sempre pure anche quando fai tipo le recensioni dei libri eccetera tu sei molto brava scusate domanda da novellina ci mettete sempre 45 minuti per ogni libro no però questo qui stavo aspettando da mesi di parlarne e quindi sapevamo che ne avrei parlato eccessivamente scusaci Silvia la prossima volta saremo più snelli a me Circe è proprio piaciuto ho preso anche la canzone di Achille sì sì ma si percepisce la violenza psicologica la brutta esperienza che hai avuto nel leggere questo libro come appunto Eric e Bear è una cosa che ho fatto anch'io quindi super capisco sì infatti la premessa che ho fatto in inizio non era bugiarda cioè proprio a me capita di rado di odiare così tanto un libro ma è perché appunto io non li finisco i libri che non mi piacciono quindi sapete sapete che io ai libri do sempre più o meno gli stessi voti c'è un range molto basso perché con il libro mi piace esageratamente è difficile ma anche con il libro mi piaccia poco perché i libri che mi piacciono poco non li leggo e quindi cioè il fatto che se io finisco un libro che non mi piace proprio per niente per forza dopo sono cattiva perché è stata una fatica vera a leggere non sto scherzando cioè veramente mi forzavo a farlo era terribile e per questo dico a chi dice che magari se lo leggevo in cartaccio mi sarebbe piaciuto di più che non è vero perché non sarei mai riuscita in cartaccio perché il tempo in audiolibro mi scocciava ma almeno facevo altro mentre in cartaccio avrei fatto solo quello mi sarei sparata piuttosto che finire un libro del genere io ho voluto provare dovevo capire no era perché abbiamo costretto Sam a leggere esatto questo libro qui l'ho letto perché era il libro del gruppo e dovevo leggerlo anch'io Silvia quindi adesso era un'eternità che dovevo parlare col gruppo di questo libro quindi è per questo motivo è che aveva avuto recensioni positive della maggioranza speravamo di farla fare l'unplane che anche Sam e Mauro gradissero una questione di gruppo esatto sì cioè soltanto perché proviamo però ti giuro Silvia che siamo più snelli anche se chiacchieroni anche nelle altre volte e senza troppo troppi off topic penso esatto e indovina di chi sarà la colpa poi di Mauro perché ricordiamoci che tutto questo è successo perché tutto quanto il gruppo aveva letto cambiare l'acqua e fiori e gli era piaciuto l'ha letto Mauro e Mauro l'ha abbandonato che è l'elangont quindi io poi l'ho dovuto leggere invece se Mauro lo finiva e diceva che non andava bene avrebbe rovinato l'unplane quindi non l'avrei dovuto leggere solitamente solitamente no ma dipende in questo caso Sam voleva sfogarsi e far capire bene il perché dei flop anche io ho letto il primo volevo capire Sam aveva pronunciato che di questo non avrebbe parlato un rumore esatto Silvia leggilo così ci dici la tua sì Silvia adesso tutte quante voi che non l'avete letto dovete leggerlo così dovete o aiutare me o darmi contro esci il vuoto adesso lo esco no no ma ok io mi sto divertendo un sacco a me Circe non è dispiaciuta la cazzo di Achille invece è stato tremendo Sam sta cercando di farci sentire in colpa no no sto pensando a tutta la mia infanzia ma niente sfoghi così mai assistito ma come l'ho già letto non mi è dispiaciuto ma alcune cose le ho già scritte ah ok scusatemi bevo un attimo per me è un libro da leggere anche la memoria della cenere mi è piaciuto un casino concordo molto bello la memoria della cenere a me è piaciuto molto lei scrive benissimo esatto quindi era comunque un libro sufficiente non un disastro totale brutto Mauro esatto questo non dimentichiamo che è un clamoroso colpa di Mauro esatto e a colpa di Mauro è una delle cose da gruppo che diciamo potete dirlo anche voi siete liberissime perché è sempre colpa di Mauro perché non si sa perché ma si risale sempre a lui con le colpe io a casa agli altri due della perrenna non vedo l'ora di leggere e parlare in infiniti settimana così mi blocca sempre che mi piaccia no no guarda io non ho nessun nessun tipo di fastidio se non che cioè non mi potrete mai più costringere a leggere un suo libro mai più costringere ovviamente in modo scherzoso perché non mi ha costretta nessuno però non mi comincerete mai a leggere null'altro di suo siete invogliate adesso eh io vi lascio perché è un impegno mi è stato bello parlare di questo unico libro della classifica buona serata buona serata Monica adesso andiamo avanti poco così non ti spoileri cioè non ti perdi niente io ho fame anch'io un po' Mauro sei gelato gelato al pistacchio esci il gelato al pistacchio per tutti esatto Mauro è un gelataio le langonte quindi tutte le dirette gli chiediamo di uscirci gelato perché lo vogliamo ma come Dave ho vissuto in fiaba fino una fiaba finora ma sì io ho fatto molto di peggio nella mia vita di quello di quello che ho detto oggi siete libri di insultare Mauro esatto povero no tanto le spalle larghe sparate pupazza no ovviamente Mauro è è fondamentale nella chat è colpa sua di tutto ma noi gli vogliamo bene povero potrei entrare nella tua Alexa e attivare l'audiolibro mentre dormi no fortunatamente non c'è su Audible quindi non c'è nessuna speranza però a me dispiace perché Jesse io avevo Storytel grazie a Jesse che mi ha dato appunto una prova gratuita perché lei non la poteva usare perché l'aveva forse già usata adesso non mi ricordo comunque il concetto che me l'ha dato quindi ho usato Storytel grazie a Jesse quindi io ho usato Storytel grazie a Jesse ho ascoltato il suo libro uno di quelli che gli è piaciuto e adesso io lo sto smerdando quindi praticamente ho usato la sua prova gratuita per offenderle un libro quindi questo mi dispiace Anonimo Moza Rapporto molla la Russia qua ci sono scherzi da fare a Sam no chiamiamo gli hacker dai diciamo è colpa di Jessica no 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 colpa sempre di Mauro no però mi dispiace perché ovviamente cioè te mi dai una cosa io la uso contro di te quindi non è piacevole però vabbè prossima volta ascolta l'amica geniale no basta quadrologia letta benissimo su Storytel non riuscivo letteralmente a staccarmi no allora io esperimenti basta per un po' non ce la posso fare ma è più successo con un audiolibro allora l'amica geniale prima o poi l'ascolterò ma non credo quest'anno perché quest'anno onestamente con Cambiare l'acqua e i fiori mi sento di aver dato a sufficienza per tutto l'anno cioè non me la sento adesso poi magari più avanti me la sentirò no figurati a me dispiace che l'hai dovuto sprecare per la perrenne che è stata una tortura no vabbè almeno l'ho sentito dai anche se non vi fa pro il fatto che io l'abbia sentito perché me ne parlo soltanto male però perlomeno dai almeno quando ne parlate so di che cosa parlate siamo una donna distrutta lasciamola leggere quello che vuole come l'abbiamo ridotta ma veramente ho ho paura vi giuro ho paura non voglio leggere i libri che mi consigliate voi perché se voi non mi piacciono e mi tocca finirli poi sono cattiva di nuovo non voglio mai più farla sta esperienza quindi facciamo un libro all'anno che sceglie il gruppo e quest'anno abbiamo dato no vabbè quando vuoi certo comunque sono delle cose completamente diverse sì però Bea mi ha spoilerato che secondo lei che a lei piaciuto ma secondo lei a me non piacerebbe l'amica geniale lo amerai ancora più grazie la perren dici dici speriamo va comunque il voto allora ho deciso di dargli 4 e mezzo però non è sincero come voto ve lo dico cioè io allora cioè ero a 4 e mi sono ripromessa che se il finale fosse stato degno cioè che chiudeva bene la storia e tutto le avrei dato 4 e mezzo quindi visto che il finale è stato degno perché la trama ha senso e quindi cioè su questo non ho niente da dire di male gli ho dato 4 e mezzo perché me ne ero ripromessa però onestamente io non lo sento da 4 e mezzo questo libro perché ce l'ho odiato troppo per 4 e mezzo perché a Enrique Berg credo di aver dato 3 e mezzo quindi perlomeno 4 gli avrei dovuto dare ma anche 3 e mezzo onestamente quindi gli ho dato 4 e mezzo un po' e anche in onora a voi dai se la gioca col mio internet e forsi vabbè non c'è paragone proprio infatti secondo me per l'amica geniale è meglio l'audolibro perché è molto adatto come storia raccontata più del cartaceo forse va bene comunque non credo che l'avremmo comprato il cartaceo dell'amica geniale quindi l'audolibro va meglio ma quello credo che ci sia anche su Audible quindi potrei ascoltarlo in futuro se decidessi 4 e mezzo vi giuro che è stata cioè è uno sforzo che ho fatto per voi questo 4 e mezzo è sappiato voletemi bene anche se vi sembra poco mi scassano i mezzi voti su cose così basse gli ho dato 1 e mezzo oh 4 e mezzo per non dargli 4 io 3 e 6 e 7 beh comunque non gli avevi dato tantissimo Barbara cioè 3 e 6 e 7 io comunque lo do i libri brutti ok scrivo la perreni ci facciamo pagare per aver di fatto azzare il voto però certo è un libro che coinvolge per la trama non per stilo considerazioni particolari secondo me sì ma la trama non è male per me soltanto che non me ne fregava niente cioè a me non è interessato la trama quella la trovo fatta bene ha senso e tutto però non me ne fregava proprio niente cioè proprio non me ne fregava niente io sono andata avanti proprio solo per finirlo per voi cioè non non mi interessava proprio finirlo cioè mentre ad esempio nella ragazza del treno che trovo un libro bruttissimo ero curiosa alla fine di vedere come finiva quindi cioè per dire lì c'era e per me è stato orribile anche quello ma proprio brutto però avevo voglia ero curiosa di vedere la fine quindi pensavo vabbè ma sentiamocelo non così scopro come finisce invece questo proprio non mi fregava niente di sapere come finiva avevo sfondato avevo sfondato solo baricco in che senso sfondato solo baricco non ho capito fidanzato se stai seguendo viene a aprire macchia che poverina vuole uscire adesso gli scrivo devo venire a aprire no macchia non g non riconosci le zampettate dei cani e io a questo punto non posso dirlo che voto gli ha votato perché passo fermato dopo tutto quello che ha detto sa ciao ovviamente tutti quanti i voti vanno bene ma poi i vostri voti si assomigliano di più quindi sono i miei che sono strani io ne ricordo non ho conservato traccia della mia rece purtroppo è peccato quello mi hanno telefonato cosa mi sono persa non mi ricordo non mi ricordo il voto quello l'avevi visto no mi riferivo all'amica geniale ah all'amica geniale non sto capendo niente ok siamo sempre lì ma quindi dici che 3 potrebbe essere uno spoiler del voto vero può essere ma onestamente non può essere più brutto di que cioè avendo scritto cioè 3 è più avanti no perché è uscito da poco quindi sarà diventata più brava comunque non può essere più scarsa di adesso scrivere quindi ok siamo sempre lì ma quindi dice invece di Cluff mi è piaciuto anche peraltro oltre la trama a me purtroppo no ah ok l'amica geniale piace per la trama ok ci sono arrivata adesso Anna a me può cambiare l'acqua e fiori proprio soltanto il fatto che la trama abbia senso e che ci stia è l'unico commento positivo che posso fare sincero a Baricco per il saggio avevo dato meno di 6 ah giusto 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 e io invece gli avevo dato 6 tipo no io avevo votato l'audiolibro però devo dire perché mi era piaciuto l'audiolibro altrimenti il saggio gli avrei dato meno anch'io che passiamo all'altro libro ci sarebbe ora sei in forma stasera sì nessun avanzamento la cosa che aveva detto che il libro si fa amare per il conoscimento di trama ci sono arrivata dopo Anna era l'amica geniale ok quindi questo qui era l'ultimo libro cioè l'undicesimo perché la prigioniera non è in classifica tra comunque mi ispira Camilla devi leggerli per farci sapere poi la tua sperando che ti piacciono ovviamente e allora poi adesso litigo anche con Dave allora in classifica al decimo posto cioè al penultimo posto con sei e mezzo perché l'audiolibro era molto bello io ce l'ho in casa tre ma ora non ho voglia l'anticristi esatto la sento che arriva esatto è assassino sul nilo di Agatha Christie allora premessa per chi non lo sa a me non piace Agatha Christie la stimo per il suo ruolo per il ruolo che ha avuto come scrittrice però non mi piace come scrive non mi piacciono i suoi libri non mi piace proprio l'intento dei suoi libri però questo libro qui l'ho trovato proprio il più brutto suo mai letto perché è veramente di una banalità indecente cioè nel senso le prime tre righe sapevo come finiva cioè non so non so se è possibile una roba così con un giallo e apprezzarlo cioè i gialli l'importanza dei gialli soprattutto quelli poi di Agatha Christie questi che sono stilisticamente semplici è la trama se tu capisci tutto dall'inizio però gli ho dato sei e mezzo perché era un audiolibro l'audiolibro è perfetto è fatto troppo bene quindi è stato piacevolissimo ascoltarlo e quindi gli ho dato sei e mezzo fosse stato in cartaccio e lo avrei abbandonato subito perché l'avrei capito subito e non avevo nessun dubbio che fosse finito cioè sarebbe finito come pensavo io non l'ho mai letto quello ok Dave quindi non mi puoi sgridare mi diverto tantissimo quando uccidi libri che ho amato ti prego cerchiamo di essere in disaccordo tipo sempre Sam diciamolo tu sei troppo svelta intelligente per i gialli per certi libri è evidente sai sempre tutto allora a me capita spesso di indovinare non sempre perché ci sono tanti libri che non avevo capito niente spesso mi capita anche di pensarla più difficile di come effettivamente è però questo qui veramente cioè chiunque lo capisce veramente ma me l'ha detto anche un'altra ragazza che l'ha ascoltato dopo che l'ho ascoltato io mi ha detto sì si capisce tutto da subito però molto fatto bene l'audiolibro no io sono pro Dave io le ho letti tutti ma questo nello specifico non lo ricordo Poirot sì Poirot però se te lo dico si capisce ti giuro che la trama è talmente semplice che si capisce se dico qualcosa io le ho letti tutti in realtà ho scoperto che molti lettori amano capire e indovinare le cose nei gialli nei thriller sì io sono uno tra questi e per questo che mi piacciono i gialli allora Agatha Christie perché non mi piace lo faccio velocissimo per quelli che non lo sanno Agatha Christie spesso nei suoi libri mette dei colpi di scena che fanno sì che tu non possa capire prima la fine del libro perché ci sono questi colpi di scena che non ti dice e te li dice all'ultimo quindi tu ovviamente non puoi indovinare mentre a me piacciono i gialli in cui si può indovinare ma è molto complessa la soluzione quindi anche se hai tutti quanti gli elementi per poter indovinare perché non ti ha mentito l'autore non ti ha nascosto niente comunque non ci arrivi perché è difficile la soluzione a me piacciono quelli quindi quelli lì se ci arrivo mi sento realizzata super fortunata super brava super fenomeno quindi mi piacciono mentre in questi qui allora Agatha Christie è impossibile indovinarli perché fa i plot twist assurdi ma questo testo qui l'ho capito dalle prime tre io non voglio insistere ma cioè il primo la prima pagina cioè non c'è nessuna soddisfazione così è soltanto banale non è aver indovinato cioè te lo dice lei praticamente a me piace tantissimo confrontarmi con che opinioni opposte su un determinato libro anche a me tantissimo a proposito di volgarità sarei curiosa di sapere cosa ne pensi Sam di Emmanuel Carrère La vita come un romanzo russo non l'ho letto che ha un sacco di belle scene succulente di forno con la P come capolettere non l'ho letto purtroppo però io ne ho letti tantissimi romanzi con scene comunque molto ma molto ma molto esplicite cioè non so se le no te non le hai letto Simo però tipo Lamento di Portnoy è tutto un libro praticamente sul porno però è fatto bene cioè per me la differenza è la qualità non la la tipologia di scena però hai ragione perché è prevedibile tantissimo dai veramente base base beh sì Jess alla fine mentre leggi se ti appassioni inizi a interrogarti a chiederti chi è chi è che è l'assassino eccetera io devo ancora leggerlo però altri della Christie mi sono piaciuti anche di Poirostra non che fosse così banale sì questo qui allora di solito della Christie non penso che sia banale penso che a me non piace perché a me non piacciono i gialli fatti in questo modo e proprio non mi piacciono proprio oggettivamente questo tipo di gialli che è il tipo di gialli che farei e non c'è niente di male ma questo qui ovviamente non avevo capito le dinamiche perché le dinamiche si fanno dopo quindi non le puoi indovinare perché non le sai ma c'è ho capito le cose importanti di un giallo insomma adesso non lo sto esplicitando per non spoilerarvi per me Agatha Christie ha solo un grande difetto che forse può essere anche un pregio i libri tra loro sono troppo simili alcune storie sono bellissime a mio parere l'atmosfera è quasi sempre ben riuscita è vero sono d'accordo bellissime storie non lo direi ma sono d'accordo ho provato a leggere ma non mi piace lo stile proprio almeno in questo simo siamo abbastanza in linea a me Agatha è il colpo di scena geniale fuori dai schemi a me no perché in un giallo per me non ha senso forse è colpa dell'edizione ah sì può essere può essere anche se lei comunque scriveva comunque in maniera molto 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 semplice io non gioco mai a indovinare quando leggo mi immergo così tanto che non mi ricordo cosa sto leggendo quindi tipo un giallo quindi tipo provo a giocare a Cluedo quindi è facile farmi fessa io invece il contrario ma non lo faccio opposta cioè mi viene naturale cioè io anche Eleanor Olyphant per dire senza dire la trama perché non voglio spoilerare però Eleanor Olyphant quando ci sono state cioè in tutti i libri quando inizia ti mette in tavola diciamo gli elementi no io avevo capito già tutto cioè io mi ero già vista alla fine e vi anticipo in realtà vi dico la verità di Eleanor Olyphant avevo pensato una cosa che non è successa che sarebbe stata super figa invece secondo me ma non c'è stata quella però tutte quelle che ci sono state le avevo capite subito ma perché a me viene naturale cioè quando io vedo la struttura io non so cioè io quando leggo un libro vedo la sua struttura e quindi vedendo la sua struttura cerco di immaginarmela ma mi viene spontaneo non lo faccio apposta perché è molto più divertente quando non ci pensi ne ho letti solo due ma sì Bella l'atmosfera e le storie mi hanno coinvolto hai letto anche l'assassino di Roger Croyd? no non l'ho letto se non indovini non va bene se indovini non va bene Sam è vero non mi va mai bene io della Christie ho amato particolarmente solo quelli astrusi tipo Oriente Express e soprattutto Dieci Piccoli Indiani eh lo capisco Dieci Piccoli Indiani lo stimo tantissimo per quello che ha fatto perché è capostipite di qualunque cosa che tra l'altro a me piacciono da morire quelli film i libri tratti da ma quello a me non piace io non ci posso fare niente sì bellissimo il elemento di Portnoy con la P ce l'ho da leggere ecco Simo cioè vedrai lì se lo leggi lì è tutta scena così tutte cose così ma per me cioè lì ci sta perché ha senso poi che non sia il mio genere è vero però è fatto bene sì sì ho capito che tu fiuti gli indizi io anche volendo voglio tenere la testa tra le nuvole io sono un po' per la pistola di Chekhov non ce la faccio cioè ce l'ho ce l'ho in testa ma sono mood personali dopo scrivimi la cosa e direlo no no li fatti in privato va bene ma è assurda te lo dico allo stesso tempo non potendo indovinare sai che vorrei verrai sorpreso il che mi piace particolarmente eh a me no ma no cioè io sicuramente è colpa del genere nel senso che io in un thriller lo accetto in un giallo no perché per me i gialli devono essere intuitivi deduttivi non un colpo di scena a caso che scombussola tutto quello che sai e quindi tata cioè non ce la faccio mentalmente non riesco cioè preferisco leggermi non di Mauro certo è colpa non del genere ma di Mauro ovviamente però io su questo sto con Dave sì sì lo so a voi piace però questo libro qui giuro non è per questo motivo cioè sapete il perché non mi piace Agatha Christie ed è completamente soggettivo ma questo qui oggettivamente è banale come testo proprio è facile indovinarlo veramente semplice troppo semplice poi se a qualcuno piace indovinare ovviamente può piacere però a me indovinare subito non piace tantissimo ecco io invece sto davanti allo schermo tremendamente affamata adesso estraggo il piatto dal forno che cosa che cosa mangi oggi Simo fin off topic vado con il terzo ultimo libro poi tantissimi anni che non leggo nulla della Christie perché l'ho letta per anni fino alla nausea magari ora avrà un'idea diversa può darsi ci sta allora terzo ultimo libro in classifica quindi al nono posto ve l'ho detto sì il voto della Christie ve l'ho detto sei e mezzo ma all'audiolibro altrimenti le avrei dato un'insufficienza al libro e l'audiolibro perfetto però veramente lo straconsiglio al terzo ultimo posto c'è la figlia del capitano di Pushkin cioè che veramente mi ha deluso tantissimo ma da morire proprio è stato un tradimento da un russo atroce perché non credevo proprio il riso basmati di oggi con frittina di ovette verdurine arachidi e semi di sesamo buono buono gnam gnam mangiare anch'io ah ok sei e mezzo onesto sì sei e mezzo ma l'audiolibro è specifico perché altrimenti ma dai l'avevo appena comprato consulting out allora non è un brutto libro però non c'entra niente con i russi io Pushkin mi parlo dato 7-7 e mezzo beh alla fine siamo lì anche se a te è piaciuto decisamente di più allora Pushkin vabbè abbiamo scoperto poi nel gruppo di lettura il perché Pushkin è diventato famoso eccetera e quindi ho capito cioè non perché è diventato famoso ma perché è capostipite della letteratura russa ed è importante quindi grazie grazie che è esistito Pushkin e amo amo e sono contenta che la letteratura russa sia nata grazie a lui nel modo in cui è ma non c'entra niente con la letteratura russa a cui sono abituata perché è veramente di una semplicità imbarazzante è scritto veramente facile ha pochi approfondimenti ha una storia veramente semplicissima e l'unico però che ha in particolare è l'ambientazione che appunto è diversa dalle solite quindi Bea si è beata di questa cosa Bea si è beata ma non l'ho trovata per niente approfondita quindi a me personalmente io l'ho trovato più un difetto che un pregio e quindi mi è proprio dispiaciuto questo libro peccato però per il ruolo che è nella letteratura grazie a Dio che esiste quindi sono contentissima che esista però non mi è piaciuto tanto quando avete Zivago quando abbiamo Zivago boh quando abbiamo Zivago lo sapete voi se no vado nel GDL maratona classica Zivago 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 quando abbiamo Zivago ah stavo guardando una maratona classica figurati Zivago l'abbiamo giugno e luglio io ho scongelato del farro cotto da mettere dentro vellutata di asparagi ma a parte se ci speziate al forno buono buono te lo dico subito aspetta Zivago 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 voto 7 a Pushkin ma semplicemente perché è un libro che non mi è dispiaciuto per niente leggere carino però per essere un classico russo mi è piaciuto veramente poco spera sono un libro invece piacevole ok manca poco sono molto curiosa delle vostre opinioni speriamo sì esatto io mi sono beata della diversità di tempo e luogo rispetto al solito che è oggettiva e sono d'accordo però per me non l'ha resa tanto bene cioè poteva approfondirla molto ma molto di più e quindi alla fine non è stato pro quando vedi le domande sai che ormai rispondo al posto tuo leggi sotto vedrai che ho già fatto la segretaria sì infatti ah vabbè 7 siamo lì comunque sì sì esatto sì perché non è un brutto libro è semplicemente una grandissima delusione per essere un romanzo classico russo cioè se fosse stato un libro qualunque è carino cioè non avrei niente da dire però per essere un romanzo russo mi aspettavo tutt'altra roba però poi avendo saputo dopo la genesi del libro eccetera capisco il perché è così semplice però comunque non mi piace cioè se dico il voto che devo dare io è il mio gusto personale non ovviamente l'importanza del libro altrimenti sarebbe 10 per ogni classico o quasi quindi ovviamente è così sì poi tu con i russi hai sempre altre aspettative c'è stata anche la delusione esatto esatto sì perché con i russi allora prima di tutti con i russi ho delle aspettative sia di qualità ma anche proprio di tematiche complessità stile quindi cioè non sono state realizzate nessuno delle due perché questo che è veramente molto semplice come libro lo direbbe chiunque a parte che si sa il perché insomma quindi diciamo che è stato deludente da questo punto di vista secondo me e poi 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 al 1 2 allora 1 2 3 4 5 6 7 8 all'ottavo posto in classifica dai che alla fine ne abbiamo fatte abbastanza ci stiamo riprendendo si è stata una brutta botta per te particolarmente esatto esatto all'ottavo posto con 7 e mezzo c'è il talismano per leggere la torre nera adesso cercherò non spoilerò dov'è Mauro è Mauro compare scompare sempre quando vuole lui quindi magari adesso comparirà dai dicevo il talismano è propedeutico per la torre nera perché in realtà dentro il talismano ci sono delle cose importantissime proprio sia per la torre nera ma proprio per la lettura di King in generale quindi un testo molto importante che ha proprio delle cose bellissime all'interno che non è esplicito però anche personaggi cose che sono proprio belle che a cui sono molto affezionata quindi le volete molto volentieri il problema è che il talismano è un libro lunghissimo che ha anche tante altre cose oltre a queste e secondo me non è proprio perfetto a livello storie eccetera un po' traballante e soprattutto lungo lungo soprattutto da metà in poi praticamente tutta quanta azione e cioè l'avrei buttato nel bidone lungo quanto 700 pagine 800 adesso non mi ricordo aspetta che ci guardiamo che io tra l'altro avevo preparato i libri qui eh quindi c'erano anche tutti quanti i libri di cui ho parlato 672 pagine dice qui però scritte molto piccole tu che ti lamenti della lunghezza strano eh perché le parti di azione a me annoiano a me annoia l'azione cioè se sono 700 pagine di introduzione psicologica va bene ma se sono 700 pagine di ha fatto quello poi va là salta lì e salta là cioè chi se ne frega dopo un po' anche due palle cioè fammi il film se vuoi farmi vedere la scenetta insomma e quindi diciamo che praticamente la prima metà del talismano per me è da 8 e mezzo la seconda metà è da 7 quindi l'ho dato 7 e mezzo perché sono cattiva comunque perché potevo dargli 8 però ho dato 7 e mezzo perché veramente cioè mi ero rotta le scatole non ce la facevo più di leggerlo mentre la prima metà che mette in tavola fa tutto quanto racconta delle cose importanti eccetera è bellissima cioè a me piace tantissimo e di solito il contrario ve lo dico anche per giustizia in realtà il talismano piace molto di più nella seconda metà perché appunto è più action mentre la prima metà è tutto quanto in intavolare elementi e quindi la gente si annoia mentre per me è la parte bella mentre la parte dopo che è tutto quanto un fare è una rottura di scatole per me esasperata in questo febbraio è stato un mese duro sì è vero infatti febbraio veramente non è un caso chi abbia letto meno perché a parte che non avevo letto tanto neanche a gennaio però io quando leggo meno è sempre perché i libri mi stanno piacendo meno cioè è sempre così infatti marzo adesso l'iperbore ho smesso di leggerli quindi calerò però per adesso avendo letto l'iperbore ho letto tantissimo perché mi piacevano da morire quindi sì non è andata proprio da dio a febbraio quindi questo libro qui in realtà mi era piaciuto soltanto che il problema è che nel GDL abbiamo letto la seconda metà a febbraio perché a gennaio abbiamo letto la prima metà perché questo qui è un libro lungo quindi siamo andati fino a febbraio e a febbraio ho letto tutte quante le parti brutte praticamente comunque la tua passione per King stona un po' con l'estrema ricercatezza di stile o sbaglio? Allora sì ha senso quello che dici però diciamo che lo stile allora per me non tutti i libri devono essere scritti divinamente cioè nel senso rischi il linciaggio no allora no io non penso che King scriva cioè non è paragonabile minimamente che se a Philip Roth a De Lillo cioè proprio non c'entra niente sono due tipi di letteratura diverse per me per me c'è la letteratura se vogliamo dire alta dove cerco lo stile perché è quello che vuol fare la letteratura stessa cioè il libro il significato della letteratura di Roth e di De Lillo è oltre alle altre cose lo stile mentre in King lo scopo non è fare arzigogori letterari e quindi io le distingo personalmente cioè per me non le giudicano nello stesso modo non mi aspetto in King Philip Roth né mi aspetto in Philip Roth King quindi ad esempio quando la gente dice ma in De Lillo non succede niente io dico ma non è mica King per dire cioè in King deve succedere la roba in De Lillo c'è lo stile quindi se offendi King perché non è alta letteratura o offendi De Lillo perché non c'è la trama da thriller sbagli in tutti i due sensi cioè ti stai cercando qualcosa che non c'entra niente con quel tipo di letteratura quindi diciamo che per me sono due cose diverse poi comunque King non scrive male cioè nel senso per essere un autore commerciale di genere scrive da dio cioè è bravissimo quindi secondo me nel suo King è molto bravo ma molto quindi diciamo che oltre a distinguere queste due cose ad amare tutti i due tipi di libri penso che King in questa tipologia qui sia il più bravo quindi quindi mi piace per quello però cioè se io legge onestamente mi romperai le scatole leggere soltanto alta letteratura non lo farei mai io amo la letteratura tutta io leggo tutti quanti i libri di ogni tipo poi ovvio che amo di più i libri tipo Rotte De Lillo perché li trovo trovo che trovo che mi arricchiscano mentre gli altri sono più intrattenimento però mi piacciono tutti i libri a me piace King ma lo trovo semplice beh sì lo è ogni tanto un po' di semplicità fa bene sono d'accordo con King volevo iniziare l'anno scorso con i tuoi GDL ma alla fine ho scelto di iniziare a poco a poco ho Shining che mi aspetta spero che ti piacerà Shining per me è molto bello tra l'altro proprio tutt'altra cosa rispetto al film quindi spero che tu non abbia visto il film ma vedrai che è molto diverso poi secondo me ci sono degli stili semplici ma al contempo belli e al loro modo difficili non è facile scrivere bene in modo semplice è vero sono d'accordo io pure vorrei iniziare ma rimando sempre ma capisco che quando uno inizi inizia a caso almeno di solito inizia a caso non ho capito capisco che quando uno inizi a cosa a leggere inizia a caso almeno di solito inizia a caso per me King purtroppo c'è il grosso problema della traduzione che rovina un po' troppo è vero considera che la maggioranza dei libri di King è stata tradotta da un autore che non sapeva cioè un traduttore che non sapeva neanche il congiuntivo perché non c'è non c'è un libro di King tradotto da lui che non sia pieno di errori gravissimi poi è ovvio che doveva essere ricontrollato perché non è dovere del traduttore controllare queste cose però comunque sia cioè tipo il succo succhia per esempio nel talismano senza che sia uno spoiler c'è una frase emblematica che mi ha fatto insomma mi ha sottolineato Mauro quando mi ha letto il talismano ma io me ne ero accorta che praticamente c'è scritto nella traduzione italiana questo succo succhia ed è evidente che in inglese c'era scritto this succo adesso non è sucks cioè fa schifo e invece è stato tradotto succhia ovviamente questa qui è esemplare però se il livello di traduzione è questo è ovvio che il libro ne risenta no però Shining volevo leggerlo perché ho amato film e volevo vedere le differenze ah ok è molto diverso molto diverso io sto ancora aspettando di trovare Shining al mercatino ma niente ah ok meglio che sia diverso dal film allora è molto diverso cioè la trama diciamo generale era assimilabile ma funziona diversamente ma i dettagli sono diversissimi la top anche a me piace così Caterina leggo il libro e cerco la serie o il film io ho Carrie e prima o poi lo leggerò ma non mi ispira perché temo sia horror anche se so che non lo è propriamente no Carrie non fa per niente paura perché in realtà con la cosa cioè non fa paura non voglio aggiungere niente perché ho paura di spoilerare perché non so cosa sai della trama ma non fa paura ci sono delle scene che possono essere assimilate all'horror ma non non senti paura per te stessa né per gli altri fidanzati fidanzata mi recrimina sempre il fatto di essere addormentato dopo i primi dieci minuti di Shining sai come il mio fidanzato che si addormenta sempre nei film io lo odio tutte le volte che guardiamo i film li guardo da sola alla fine anche it cazzo certi pezzi tradotti male eh purtroppo si eh ma sono tutti quanti di Dobner purtroppo traduceva un po' così sì ma sarebbe dovere del traduttore sapere l'italiano non sapevo sta cosa pessimo eh sì purtroppo la maggioranza dei libri di King è stata tradotta da Dobner che poi hanno smesso di farlo tradurre a lui soltanto quando è morto credo proprio e e la gente si è pure lamentata perché oddio non riusciranno mai a tradurre King bene visto che non l'hanno tradotto fino adesso eccetera invece sono tutti più bravi perché Dobner è veramente una capra bisogna dire la verità a me il libro dell'overlook hotel o come si scrive non mi è piaciuto incredibile non ho interrotto pensate sì ma invece per me è bellissimo che è ripiaciuto io non ho letti quattro mai paura leggero splatte sì io paura l'ho provata un po' in alcune scene di hit e in le noti di Salem per il resto no però se ci sono persone sensibili alcuni libri possono fare paura Carrie non è un libro che fa paura per un motivo specifico che però non dico perché non vorrei fosse spoiler io non ho idea di quando arriva la cena oggi perché ho fidanzato non me l'ha scritto quindi non so se continuare o no cena quando adesso gli scrivo vediamo se mi risponde così so se continuare ok controllate i traduttori di Shining Bonpiani tradotto da Adriana dell'orto ah vedi allora vedi ho già detto una scemenza meglio comunque ah ok 19.30.20 ok abbiamo tempo allora paura certi paragrafi dell'ombra dello scorpione vero bello sì Bonpiani non dovrebbero essere Dobner esatto non ci avevo pensato meglio 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 allora anche Carrie eh infatti meglio allora dove ero arrivata al talismano 1 2 3 4 5 6 7 al settimo posto è un altro in cui King era autoreferenziale citando Derry e It eh sono talmente tantissimo quelli in cui autoreferenziale che cita Derry e It che non ho idea però ehm se ti viene il titolo ovviamente ti dico la mia allora al settimo posto con 8 qui non sarà d'accordo per niente Bea se c'è ancora che non l'ho vista scrivere da un po' è Sabotaggio d'amore di Amelino Tomb allora sto ascoltando la Notomb in audiolibro ehm in ordine cronologico di libri cioè come come li ha pubblicati sì infatti credo una raccolta di raccolta ah ok ehm e questo libro qui è il secondo che leggo so che a Bea non è piaciuto no questo non lo tollero esatto so che a Bea non è piaciuto ma a me è piaciuto uccidila per Ren e poi come mai gli altri non si vedevano con lo schermo condiviso eh perché non l'avevo messo io se li volete vedere ditemelo che vi faccio vedere spero di riuscire a leggere un altro libro una notomma breve mi manca anche io non vedo l'ora di leggere un'altra mai più di 7 a questo letto così letto così non sto capendo aspetta Bea no questo non lo tollero lo uccidila per Ren non mi importa ma più di 7 a questo letto così è un fastidio insostenibile ok allora quanto di voto 8 allora questo libro qui ho capito il discorso che dice Bea è per la narratrice che ha una voccettina fastidiosa che adesso vi faccio sentire aspettate aspettate allora devo dire che a me non dà poi così fastidio questa voce rispetto a altre che ho sentito insomma e ha senso con il libro quindi secondo me era coerente quindi a me non ha fatto così tanta così tanta così tanto fastidio fino allo sfogo vedi vedi un fastidio insostenibile 4 ore così allora a me non ha dato così tanto fastidio nonostante non piaccia neanche a me la voce però è coerente con l'audiolibro il libro a me è piaciuto perché è strano e scritto molto bene al fine sono sempre quelle le motivazioni che do e questo libro qui è molto strano nonostante in realtà sia un'autobiografia perché in realtà è la notomb stessa che racconta un momento della sua infanzia che è molto particolare quindi sembra veramente poco credibile ma in realtà è vero e quindi si capisce un po' la personalità della notomb che è particolarissima direi come minimo però la cosa che mi è piaciuta di più è lo stile la scelta stilistica è particolarissima perché per niente questa bambina che parla che è la narratrice è da un lato è una bambina quindi certe cose non ha propria idea di cultura niente e non sa magari delle parole altro però allo stesso tempo parla in maniera completamente forbita e particolare mi ha fatto morire questa cosa l'ho adorata troppo e quindi mi è piaciuto tantissimo come era scritto della storia non me ne è fregato niente dico la verità però alla fine era un'ambientazione particolare scritto molto bene e io me lo sono goduta quindi per me è molto bello sì sì è scritto bene io ne sono uscita frustrata però di boll avessi il cartaccio sarebbe stato sette e mezzo beh vedi dai allora sì era sicuramente coerente ma mi sono venuti stinti omicidi esatto eh sì diciamo che se fosse stata questa voccetta qui e non avesse avuto senso mi avrebbe dato fastidio sembra una voce da cartone animato è vero e quindi niente allora voi ve lo sapete per me è lo stile che conta io non ci posso fare niente per me questo libro è scritto bene quindi otto se lo meritava cioè proprio e poi comunque proprio l'ho letto volentieri avevo un sacco di voglia di andare avanti nonostante non me ne fregasse niente della trama ma proprio perché me lo godevo tantissimo a livello stilistico e poi l'ho trovato piacevole alla fine la trama non me ne fregava niente ma era piacevole cioè non mi ha dato fastidio in nessun modo è interessante vedere conoscere meglio l'autrice in questo modo quindi io non sono riuscita a trovare gli difetti se non che non è spettacolare ovviamente però la notomba ribadisco è intelligente ma non si applica sì questo lo sono d'accordo perché effettivamente tutti tutti io ho detto tanto dei libri per adesso però tutte le volte i suoi libri possono essere meglio maestra di stile ma non vedo lo sforzo esatto sono d'accordo però scrive bene quindi vince sempre per me butta lì bella idea cazzo purtroppo purtroppo sì sono d'accordo però però per me vince perché cioè io da un libro scritto coi piedi ma con una trama fenomenale preferisco diecimila volte un libro scritto benissimo ma che non c'è la trama io non ho letto i cinque sono tutti così finora ottimo ottimo io prima o poi prima o poi ti raggiungo no perché te nel frattempo andrai avanti però prima o poi recupero anche gli altri ma cioè io sarà difficile che non mi piaceranno i suoi libri perché mi piace come scrive quindi vinco sempre facile insomma eh comunque li scrive tutti in meno di un anno eh sì infatti voi sono anche brevissimi diciamolo sì sì poi alla fine sei costretta ad ammettere che è bello però cavolo che peccato so che potrebbe fare ancora di più sì sono d'accordo totalmente ci sono ancora le altre Caterina Sara ci siete ancora siete vive vi state annoiando Silvia vi ho offesa vi ho offese vi ho offendendo libri su libri e comunque sì sono d'accordo Notomb potrebbe fare tutti quanti libri più belli di quelli che fa ma sono belli perché sono scritti bene quindi io non riuscirò mai a darle un voto basso perché proprio non lo penso sì sì ci stiamo stavo leggendo qualcosa sul libro ok scusate io ho finito di stirare io ci sono ma posso scrivere a tratti ma non ho problemi ve lo chiedevo soltanto per essere sicura ma ho fame non ho voglia di cucinare capisco è la mia esistenza in tutti quanti i giorni della settimana in cui non ho le dirette come se Einstein invece della relatività avesse aggiustato lavatrici però magari sarebbe stato un fenomeno come aggiustatore di lavatrici fra poco il fidanzato mi molla perché dovremmo mangiare ma sono ancora viva non avendo letto i libri non ho molta da dire no nessun problema chiedevo per sicurezza ci sei tu su una pagina e Goodreads nell'altra ok ci sono ci sono vi ascolto con entusiasmo ok va bene mi ha ricordato che voglio leggere la fisica della lavatrice ecco vedi allora dico un altro sì dai diciamo un altro allora al mi ricordo mai 1,2,3,4,5,6 al sesto posto su 11 con 8 sempre c'è questo la città della tremenda notte di Kipling questo l'ho letto con Kingdom Unlimited quindi se avete Kingdom Unlimited ve lo consiglio però se andrà poco becchi ritorno a Pompei della Notom che secondo me sembra il primo è più riuscito speriamo speriamo spero che piacere anche a me allora questo testo qui di Kipling sì bella copertina sono d'accordo è un libro appunto di Kingdom Unlimited è una raccolta di racconti è un libro ambientato in Oriente dove proprio ho scoperto Kipling è stato per tantissimi anni quindi e in realtà il narratore è Kipling stesso quindi cioè è come se raccontasse delle esperienze che ha vissuto veramente lui ovviamente sembrano inventate perché sono esperienze molto particolari quindi non si sa che cosa è vero che cosa no e nella proprio nella prefazione c'è scritto che le storie più succose non le ha scritte perché quelle lì erano troppo succose appunto quindi c'è questo vedo non vedo questo è vero non è vero eccetera reso molto bene questo voglio leggerlo questo uno degli altri di Kipling su chi non ha limitato questo per me merita qual era la media voti di febbraio sette e mezzo per colpa della perren che io non lo sapevo che cosa Kipling è quello del libro della giungla per l'altro per chi non lo sapesse sì sì lo sapevo e c'è anche un racconto che è proprio autobiografico proprio di quando era piccolo che è bellissimo a me è piaciuto un sacco però ce ne sono proprio altri belli soprattutto la città della tremenda notte è un racconto dove non succede niente ve lo dico già però l'estetica di quel racconto le descrizioni sono di una favola sono bellissimi e sono negativi e potete immaginare dal titolo la città della tremenda notte non sono proprio cose belle però è veramente reso benissimo la cosa bella di questi racconti è che si sente proprio l'aria esotica cioè come leggere un libro scritto non da un autore occidentale ma da un autore orientale e quindi sono molto belli poi i racconti fra di loro divergono tantissimo ci sono quelli proprio più appunto occidentali quelli più orientali nonostante siano tutti quanti ambientati in oriente però ce ne sono alcuni che sono insomma tipo con sciamani o cose di questo tipo quindi anche come trama ovviamente esotica mentre ce ne sono altri che parlano magari di sono sempre esotici perché c'è sempre un elemento peculiare anche spirituale mistico e cose di questo tipo ma hanno magari dei personaggi diversi cioè quando ci sono gli stranieri quando ci sono invece quelli del posto però è molto interessante mi sono dimenticata il titolo non sono riuscito a cercarlo la città della tremenda notte nove poi la perrena ho sdrumato tutto esatto quindi ci sta a partire con questo di kipling allora per me sì io di kipling avevo letto anche un'altra raccolta di racconti che non mi ricordo più come si chiama di cui avevo parlato però quella lì era proprio per bambini cioè era proprio tipo una rivisitazione del perché il rinoceronte ha tipo le rughe perché la zebra ha le strisce o cose di questo tipo che era carino è carino però era proprio per bambini mentre questo qui è per grandi e ha tanti spunti buoni ovviamente poi nelle raccolte di racconti per me è difficile che tutti quanti i libri siano bellissimi tutti i racconti siano bellissimi a me sono piaciuti tutti però ce ne sono alcuni proprio che sono fenomenali tipo la città della tremenda notte per l'estetica punch and judy che è quello su autobiografico perché per quello che racconta perché mi sono sentita molto presa in causa ma anche perché era molto interessante e ce ne sono diversi altri alcuni più belli alcuni più brutti poi a me comunque piace un po' l'horror ma questo libro non è horror lo posso non leggere anche quelli che non sono horror però l'atmosfera nera mi piace quindi questa cosa delle macumbe cose strane maledizioni cose di questo tipo mi è piaciuta però lo può leggere chiunque anche quelli che hanno paura perché non è horror per niente però ci sono delle scene comunque esplicite a livello di sangue o cose di questo tipo ve lo dico se vi dà fastidio quella che aveva il problema dei disegni a Delphi copertino rossa era lui sì quello non mi ricordo come si chiama storie non mi viene in mente adesso ci guardiamo aspettate che anche quello lì l'avevo letto in Kindle Unlimited ma secondo me non rende per niente in Kindle Unlimited speravo ci fossero meno edizioni del libro della giungla ma no tra l'altro c'è anche Capitani Coraggiosi che io ho letto tanto tempo fa ma io non me lo ricordo più quindi non so se è adatto niente non lo troverò mai devo scrivere Adelfi Adelfi Kipling ecco storie proprio così era questo non c'è più in Kindle Unlimited ah l'han tolto vabbè quindi forse l'han tolto non lo so comunque comunque era quello storie proprio così ok ok mi hai convinto ho messo un wishlist per me per me è molto carino rende molto se avete Kindle Unlimited da maggior ragione però anche comprarlo a me piacerebbe quindi io personalmente lo consiglio ok allora parto con La Tremenda Notte secondo me veramente cioè tocca picchi alti poi per Bea allora magari a te non sembrerà quindi prendilo con i guanti quello che sto per dire ma per Bea ma anche per gli altri ovviamente se l'hanno letto però Bea so che ha letto un libro magari per te no però a me ha ricordato in certi racconti un po' storie ciniche ciniche di Moa poi magari no perché comunque non c'entra in niente però a me è venuto in mente quindi cioè io quando ho letto questo libro qui un po' mi ricordavo l'esperienza che ho avuto con storie ciniche che mi è piaciuto anche a me però magari no ripeto perché questo qui è ambientato in India molto esotico mentre storie ciniche aveva anche altre ambientazioni un po' così però era più orientato su diciamo le battutine le cose tra esseri umani mentre questo qui ha sempre anche un elemento diciamo di incomprensibile quindi però ci sono anche queste cose qui che a me certe volte hanno ricordato Mo Home quindi magari ti piacerà per questo o magari no e non ti sembrerà per niente però me lo dirai in caso che io a Mo Home ci tengo eh esatto visto che a te è piaciuto visto che io l'ho pensato ho pensato di dirtelo poi magari per te non lo sarà per niente perché sono quei collegamenti che sono più a sensazione che provi mentre leggi non tanto a oggettività quindi magari non te ne accorgi cioè non lo pensi poi ho letto un libro di Mangiamo esotico che tu non hai letto quindi mi sa che ci stai prendendo più di quanto tu sappia ah di Mangiamo ok di Mo Home esotico che tu non hai letto beh vedi sì perché comunque anche il filo del rasoio comunque ce l'aveva un po' questa cosa quindi quello che cioè li ho molto paragonati in questo libro perché comunque Kipling è completamente un altro autore però questa l'atmosfera che percepivo l'ho percepita simile in questi due libri quindi se qualcuno ha letto Storicini che gli è piaciuto anche come atmosfera percepita mentre leggi secondo me potrebbe piacere anche questo anche se non è per niente identico poi mi farete sapere in caso però veramente un po' l'ho pensato quindi magari dai qualcosa c'è sì sì ma secondo me ci hai preso ancora più di quanto pensi ora che mi ci fai pensare speriamo dai vi devo lasciare causa lezioni di fisica buona serata e buona cena buona lezione di fisica e buona serata e buona cena anche te per quando sarà ciao adesso dai spegniamo direi perché abbiamo fatto uno due tre quattro cinque sei libri e ne abbiamo uno due tre quattro cinque sei con prust quindi evitiamo dai leggi in modo che ho letto anch'io e capirai sì lo voglio recuperare tutto pian piano lo farò non voglio dirti qual è va bene ok tanto li voglio leggere tutti mi devi dare bene la listina dei libri vabbè ce l'ho in realtà dei libri che hai letto te suoi così mi leggo i tuoi quelli perché tanto su tutti quelli che ci sono tanto vale ciao buon weekend lunedì ciao a tutti buon weekend a lunedì cioè se vuoi te lo dico no ma non c'è bisogno dai cioè se non vuoi dirmelo forse c'è un motivo insomma e ci vediamo lunedì con la diretta dei finiti in settimana dove potete parlare dei libri che avete finito voi se vi va e siete tutti invitati ovviamente e grazie mille per la compagnia venerdì prossimo finiamo la classifica non è andata poi così male dai sono stata perfida ma è finita è finita quindi smetto di essere cattiva perché la prossima settimana la classifica è tutta in positivo quindi parlerò solo bene ciao a tutti buona cena e buona serata a tutti quanti